Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo e benvenuti a questa puntata di Il Digestivo. Oggi è stata la giornata della fuga delle fughe al Giro d'Italia, non la fuga bidone perché non cambia assolutamente nulla in classifica generale oggi, ma una fuga di caratura veramente altissima. Una caratura che durante il watch along su Twitch, la diretta che faccio per commentare e guardare insieme la tappa del Giro, mi sono permesso di definire una fuga da to the phones e ciò di cui voglio cercare di parlare oggi è un tema meramente tattico, che però in qualche modo grazie a quello spettacolare essere umano di Tom Dumoulin riesce a diventare anche una bellissima storia di amicizia, di sport. Quindi bando alle ciance, oggi Digestivo tattico, entriamo nel nostro racconto per screenshot della tappa. Vico Rewind. Tutto l'universo sapeva che questa sarebbe stata una tappa da fuga e quindi tutto il gruppo voleva cercare di andare in fuga, compresi elementi che non ci sarebbero dovuti essere, adesso ci arriviamo. Il primo a provarci, come sempre, è stato il magico Thomas De Gant, il TDG, che però negli ultimi anni non è più chirurgico come una volta nei suoi tentativi. Poco dopo indovina un po' chi è il Joker che fa cose, Matthew Van Der Poel. Si guarda indietro, c'è Mauri Van Sevenant, tira il collo a tutto il gruppo che è totalmente in fila indiana da solo, e però è molto ben controllato e quindi non riuscirà ad andare questo tentativo. 157 alla fine vuol dire che abbiamo già fatto più di 40 km, ancora non c'è la fuga, ok, parte Fout Pouls. È partito secco, molto molto forte, anche troppo probabilmente. È iniziato a fare una serie di facce con questa bocca apertissima, che diceva proprio sono a tutta. E però mancavano 157,5 km all'arrivo. Un pochino esagerato forse, Fout. Prime immagini di tutto il giro degli appennini, nebbia assurda. E ok, Pouls è andato a 30 secondi su tutti, lui molto probabilmente farà parte di questa fuga. Ha avuto un gran timing, ha beccato uno dei tanti momenti in cui il gruppo si appallottola, e ci si guarda e non succede nulla perché nessuno vuole prendere l'iniziativa, perché sa che non andrebbe a nessuna parte, e invece lui è Vout Pouls ed è riuscito con una trenata tremenda a distaccarsi da tutti. Ora però dobbiamo scoprire insieme quello che succede dietro, perché in questa tappa c'è un po' un manuale di come si crea la fuga giusta. Parte Davidino Formolo, UAE T-Memi, le squadre più potenti del gruppo, e quindi vuole essere presente, vuole avere la chance di andare a vincere questa tappa. Con uno dei suoi elementi italiani ci hanno provato sia Formolo, sia Ulissi, sia Covi. Tutti e tre avrebbero avuto delle grosse chance di andarla a vincere, ma Formolio con le sue facce qua fa una grossa trenata a sua volta, portandosi dietro Anthony Perez, veramente uno spettacolo. Mi sapete dire chi vi ricorda il Formolino quando fa ste pose? Comunque super fotogenico, scontornato dalla nebbia. A quel punto davanti rimangono in tre, ma nel frattempo il gruppo dietro sta menando. Si avvicina veramente tanto in questo momento. C'è stata bagarre continua perché parte una squadra e altre tre seguono in automatico e non si trova mai l'accordo giusto. Davanti intanto ai tre se ne sono uniti altri 4-5, è una fase confusissima e a un certo punto vediamo che dal gruppo in questa discesa si stanno staccando in tre. Ma chi sono questi tre? Questo zoom è lontanissimo, avviciniamoci per favore. Non si vede ancora niente. Ci sono gli alberi. Ok, allora, cosa sono quelle divise scure? Ehi, ma, cioè, non è che sono degli Ineos per caso? Sono due Ineos e un Alpesin. Ah, no, 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 aspetta. Sono Mathieu van der Poel, Richard Carapazze e Jonathan Narvaez. Azione praticamente senza alcun senso qua. Da parte del principale favorito per questo Giro d'Italia è la parte della squadra che ha tenuto sempre il boccino in mano durante tutte queste giornate quando c'è da salire in montagna. Onestamente non ho idea di come classificare questa cosa. Una sola cosa è certa. Questo gruppettino a tre con Van der Poel, Carapazze e Narvaez è assolutamente il momento bestiarare della giornata. Riccardino, sei matto! Alla tua! Ma qualcuno ha detto codice sconto pietre? Il trio dà la caratura più alta che ritroverete in tutto questo Grand Tour. Ovviamente è un qualcosa che è destinato a naufragare molto facilmente ma nel frattempo farà naufragare anche la fuga davanti perché creerà un tourbillon in gruppo che aumenterà di smisura l'andatura. In questo momento di forte cambiamento Davidino Formolo snasa qualcosa e inizia ad aumentare da solo l'andatura. Viene seguito da Arcas. Vengono ripresi praticamente tutti gli altri ma nel frattempo il Formolino si è guadagnato un bel vantaggio da gestire. Si proverà dietro anche De La Cruz per Astana con Lennar Kemna e Juan Pedro Lopez, vale a dire la maglia blu che è seconda in classifica e sta cercando di insidiare fin dai giorni scorsi la maglia rosa dello spagnolo della Trex e Gaffredo. Con loro uno scatole fortissimo come De La Cruz che però è già fuori classifica. E Kemna rinforzerà l'azione cercando di testare il polso un pochino di Lopez. Vediamo se riesce a seguirmi in primis vediamo poi come si comporta la squadra vediamo se riesco in generale a fargli del male per cercare piano piano di strappargli questa rosa entro il block house. Il tentativo però in realtà Lenardino è abbastanza folle perché non ti mollerà mai se non lui tutta la sua squadra. Per ottenere qualcosa da questa situazione avrei voluto fare praticamente una tappa dall'inizio alla fine full gas spingendo da solo e facendo un'impresa assurda con dietro Lopez che si staccava e quindi i Trex che dovevano iniziare a stare con lui ma insomma era decisamente utopico. La cosa interessante è che gli ha seguiti Pavel Sivakov per Ineos quindi era un po' una carta side di Ineos per cercare di mantenere un minimo di controllo se fosse andata via questa fuga assurda con la maglia blu e la maglia rosa insieme. C'era anche un bike exchange non a caso perché tutto torna qua ragazzi tutto torna. L'altra squadra dell'altro favorito Simon Yates a sua volta vuole metterci un uomo momento idolatria per lo scatto di Meraoui Kudus che però non andrà a buon fine però IF Education First è un'altra squadra che vuole avere un uomo in questa fuga e lo pretende un pochino perché non hanno grandi uomini di classifica e hanno invece un team di grandi fughisti obiettivamente. pochi chilometri dopo nel marasma collettivo davanti dopo un altro po' di scatti e controscatti riescono a raggiungere il formolino Pulse di nuovo Davide Villella per Cofidis e con Bowman per Jumbo Visma inizia a essere già un gruppettine un po' più interessante con tre squadre molto forti rappresentate ma tre elementi che non fanno paura a nessuno per la classifica Bowman a 5 minuti e mezzo dalla rosa andrà tenuto sotto controllo ma non è un uomo fra ovviamente i favoriti per vincere il giro dietro manca una squadra di quelle che avevamo nominato Education First che infatti parte con Diego Camargo seguito però niente po' di meno che signori miei da Tom Dumoulin che dopo aver preso gli schiaffoni sull'Etna speravamo più di ogni altra cosa al mondo che iniziasse a andare in fuga perché volevamo che avesse comunque un ruolo in questo GT dopo essere uscito di classifica ma non in maniera definitiva 9 minuti si può tornare in classifica magari certamente non per vincere il giro ma per fare qualcosa per farsi vedere e Tom Dumoulin inizia a trainare Camargo che tra l'altro è aiutato parecchio dalla propria stazza si può nascondere dietro il gigante olandese senza prendere un filo di vento proprio e va su col tommone che ha acceso il motore in coppia riusciranno a riportarsi sui 4 davanti però non è finita qua perché Trex e Gaffredo non vuole avere tutto l'onere di tirare per tutto il giorno solo per difendere la maglia di Juan Pedro Lopez e quindi subito dietro Dumoulin ecco che parte zio Bau che molle ma sempre con un tempismo fantastico vedete come spunta come uno squalo dietro a Camargo e Dumoulin che stavano andando a riprendere quelli davanti si unirà loro creeranno un gruppettino super super forte che piano piano però si scremerà gli ultimi ad uscirne saranno proprio Villella e Camargo rimarranno in 4 Tom Dumoulin Jumbo Visma Kahn Bowman Jumbo Visma Bau che molle ma Trex e Gaffredo e Davide Formolo UAE Team Emirates un gruppetto in cui c'è di tutto vittoria al giro vittoria al tour vittoria della generale del giro vittoria e podi nelle monumento e poi c'è Kahn Bowman che è quello che ha vinto di meno ma ha vinto tutti i GPM di giornata è sembrato avere un kick migliore degli altri e allora vediamo negli ultimi chilometri Tom Dumoulin che dopo che i due per tutta la tappa avevano cercato i giochi tattici avevano cercato di creare un buco per l'altro oppure di partire nel momento giusto per cercare di portare a termine un long range solo attack essere coperto molto bene poi dal compagno dietro non ci sono mai riusciti perché Bau che molle ma è una volpe assurda e il formulino quando c'ha la gamba non ti molla neanche per sbaglio è uno dei peggiori cagnacci il world tour e allora a 8 e mezzo alla fine Tom Dumoulin sta facendo il ritmo per Kahn Bowman hanno deciso parlandosi che è Bowman la scelta per la volata ristretta ovviamente molle ma e formolo non ci stanno e in questi chilometri abbiamo capito anche tra l'altro durante la live che in questo gruppetto tutti più o meno avevano capito che lo spunto migliore c'aveva Bowman oltre al fatto di avere Dumoulin come lead out era anche molto probabilmente il più temibile mentre molle ma e formolo certamente non sono noti per il loro spunto nel breve sono dei atleti dotati di un fondo esagerato ma non sono certamente dei finissers e allora devo provare ad anticipare ci provo una prima volta molle ma agli 8 e mezzo viene seguito molto bene da Bowman che gli si attacca come un'ombra formolo fa un po' più fatica a chiudere il buco Dumoulin invece la subisce rimane indietro qualche decina di metri mentre il formolino recupera sui due rimangono davanti in tre e a questo punto Dumoulin sembrava craccato ma non è così semplice perché a quel punto chi è che tira dei tre certamente non Bowman molle ma appena uno scatto a formolino conviene e allora mentre si guarda indietro il tommone ritorna per coprire lo strappo verso il centro di potenza da davanti cercando di mantenere l'andatura al punto giusto che non sia né troppo alta né troppo bassa per evitare che un attacco da parte di uno degli altri due possa risultare decisivo ma ovviamente Bowke molle ma detto lo zio da dietro si spizza tutti e piano piano sceglie il momento perfetto per partire è a 7,2 dalla fine in questo caso di nuovo la stessa identica scena di prima Bowman lo segue come un'ombra formolo rimane qualche di metro indietro Dumoulin rimane qualche metro ancora indietro si ferma poi per un attimo molle ma e il formolino sa che questa è la sua miglior chance riparte sopra in elastico da tutto tira fuori le sue facce migliori tira fuori i suoi watt migliori e stavolta è molle ma che la subisce stavolta è molle ma che si prende un gappettino ma Bowman ancora una volta attaccato col Bostik sta facendo tutto ciò che deve fare sembra corsa come una classica questa gara Duck & Bowman e da tutti gli altri un finale veramente stupendo dopo un inizio stupendo di gara e però di nuovo dopo la fine del forcing del formolino ci si guarda indietro chi tira non io non te non lui e allora torna Tom Dumoulin sneaky come uno squalo da dietro gli sorpassa velocità doppia e si mette davanti in cruise control questo è un vincitore di giro d'italia che si mette davanti in cruise control ai tre chilometri dalla fine per agevolare la volata di un compagno e il resto è già storia Dumoulin si alza sui pedali per le ultime centinaia di metri lancia un lead out che peraltro è praticamente perfetto per Bowman d'altronde Doom è da sempre uno dei migliori croman del gruppo oltre che prologhisti oltre che avere una grandissima intelligenza ciclistica perché non dovrebbe offrire un lead out così perfetto al compagno 28enne che può lanciarsi verso la propria prima vittoria in un grand tour in carriera dopo la tappa Tom ha voluto sottolineare come Con sia una delle migliori persone a cui poteva succedere questa cosa di vincere la tappa al giro se lo merita più di chiunque altro e noi ti crediamo Tom siamo felicissimi per voi tutto quanto tutto bellissimo grazie così si sfrutta una superiorità numerica in una fuga di un grand tour e così si cerca di leggere da spettatori chi è il più temuto in un gruppetto finale quindi chi ha veramente la più grande probabilità di andare a vincere perché fra ciclisti sanno cose che noi non ci possiamo neanche immaginare abbiamo avuto un Tom Dumoulin dal tasso di romanticismo totalmente fuori scala che è riuscito sia a tornare almeno parzialmente in classifica sia a fare un gran figurone e rischiare di vincerlo in la tappa e alla fine di aiutare il suo compagno nel portare a casa la vittoria più importante della sua carriera ho figli un assist impossibile da scalpellare esiste quindi anche la Jumbo in questo giro io sinceramente finora non me ne ero accorto questo era il digestivo un ringraziamento a Tom sia Dumoulin sia non Dumoulin noi ci vediamo domani e dopo domani e dopo dopo domani e prima o poi su youtube su twitch e tutto ciò che c'è in mezzo se ti piace questa roba distruggi tutti questi bottoni ci vediamo domani ciao